Bimomba! Bimomba! C'è una moda che si chiama, c'è un bel gioco da usare, nelle mani e nei capelli, Lru, fru, 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 le amici lunga coda, sento che fai la moda, Rru, fru, fru, i lunga coda, sono Jig! Ehi, che succede? C'è una rissa fra gli eroi più famosi! Ma c'è anche Pikachu, il più famoso dei Pokémon! I Pokémon sono dappertutto! Anche su Super Smash Bros, solo su Nintendo 64! McDonald's Happy Meal presenta Ticome Tigro e tutti gli amici di Winnie the Pooh! Aiuta Tigro a trovare la sua famiglia! Sono gli otto simpatici amici della nuova avventura di Walt Disney! Li trovi nell'Happy Meal di McDonald's! Collezionali tutti! Skate! Skate! Arriba Tania! Skate! Tania sullo skate va verso la città, come una scheggia va e non si fermerà! Si mette il casco e poi va! Skate! Skate! Tania Skate! In giro per la città! Skate! Skate! Tania Skate! Wow! Sì, è la prima di un vulcano! Ciò un lago di latte lo cioccolatizziamo! Choco Crispi! Schicchi di riso soffiando col Super Cioccolato! Entra in eruzione! Esprigione energia per la spedizione! Choco Crispi! È eccezionale! Avventure senza uguale! Crocca la mattina solo se c'è Chocos! Cereale Super Ciocco Croco Cioccoloso! Crocca nella bocca il cereale più goloso! Chocos! 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 Chocos di Kellos! La parte croccante di una colazione coppietta. La Walt Disney Pictures presenta Ti come tigro e tutti gli amici di Winnie the Pooh. Un film tutto salty, sorrisi e simpatia. Che bello! Ti come tigro e tutti gli amici di Winnie the Pooh. Dal 20 aprile nei cinema. Cosa stai facendo? La caccia tesoro con la gaugio. La mappa indica la grande roccia. In macchina. Attento agli indiani. Vi ho viste piuttosto. Occhio alle belve feroci. Un coccodrillo. Niente paura, c'è la retro. Guarda, c'è un'altra mappa. Allora si continua. Che bello, la prossima volta guido io la gaugio. Peppi, pere, col compagno di strada. E' arrivata la magia delle uova di Pasqua a Nestlé. Con super sorprese Disney super sorprendenti. Per bambine e per bambini. E tanto goloso cioccolato. Dottor X è in cima alla diga. Questa volta affogherà la città. Action Man ordina il suo invincibile palco di catturarlo. Attacco dall'alto. Dottor X hai chiuso. Action Man Falcon Master. Andro. Quando è Pasqua? Felice Fulbi. Wofi. Andro. Non riesco a farlo. Ci ho provato decine di volte. Hai dimenticato che cosa ho detto prima volta che tu facevi? Ascolta il tuo cuore. Comanda il tuo corpo. Apri gli occhi. Dov'è il pericolo? Qui non lo vedo. Impara ad usare tutti i tuoi sensi. Picchiarsi non è giusto. Ma se sei obbligato a picchiare, vinci. In Prima Visione Italia 1, Karate Kid 4. Tra poco.